Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Erika Tomassone. Buona domenica sorelle e fratelli, vi diciamo buon avvento. Ecco ormai la terza candela è accesa. Vi parliamo di un tempo santo. Preparate la via del Signore, rallegratevi o cristiani, rallegratevi ma molto. Il Signore è vicino. Noi siamo qui riuniti, qui raccolti, ognuno a casa sua ma tutti uniti per opera dello Spirito Santo. Siamo insieme sotto lo sguardo di Dio. Vogliamo perciò invocare la sua presenza non solo per questo momento di culto ma per le nostre vite ogni giorno. Infatti noi proveniamo dall'amore di Dio. L'amore di Dio è quello che ci sostiene in ogni lotta, in ogni dolore, in ogni progetto, in ogni gioia. E il nome del nostro futuro che noi vediamo ancora incerto è sempre Dio, il suo amore eterno. Amen. E' scritto quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio nato da donna per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Preghiamo. nostro Dio, tu che sei come un padre, come una madre per ognuno e ognuna di noi, tu che hai amore eterno per questo mondo, noi invochiamo i segni del tuo amore oggi per noi, per questo mondo. In questo periodo in cui celebriamo la tua apertura verso di noi e il mondo, noi ci mettiamo in un'attesa gioiosa perché vogliamo ricordare come nel tuo figlio Gesù tu hai visitato questa terra e come davanti a noi ci sono le tue promesse. Noi non smetteremo mai di dire venga il tuo regno, compi ciò che hai iniziato in Cristo Gesù. Amen. La mia figlia è iniziato in Cristo Gesù. Amen. La mia figlia è in Cristo Gesù. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La vera carità, il vero e il vero bene, ecco l'umanità. Leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 11 i versetti da 2 a 10. Giovanni il Battista, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Gesù rispose loro, «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi ricuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. «Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto «Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te». Carissimi e carissime, una parola guida di questo periodo speciale dell'avvento, periodo che ci conduce a Natale, è «aspettare». Vi sarete certamente trovati ad aspettare, aspettare soprattutto qualcosa che ritarda, la chiamata per un intervento chirurgico, oppure un pacco che state aspettando, o una lettera importante, l'amica che ritarda, l'amico che non si è più fatto sentire. Quando le nostre attese diventano faticose, allora diventiamo ansiosi. E l'attesa umana ha spesso questa dimensione di ansia e non di gioia. E' chiaro che poi nel nostro mondo non siamo più campioni di attesa. In genere, con questi tempi che si sono così velocizzati, vogliamo tutto e abbastanza subito. E se non tutto, qualcosa, ma subito, avrete notato che quando qualcuno ci scrive un messaggio sul cellulare, in fondo ci aspettiamo che reagisca subito. E un tempo non era così. Eravamo forse più capaci ad aspettare. Ecco, io oggi però vorrei che recuperassimo la bontà, la bellezza, la gioia di aspettare dell'attesa. Infatti, l'attesa dell'avvento è totalmente diversa dalle nostre attese difficili. Perché è l'attesa, ci ricorda l'attesa, della promessa di Dio, di un salvatore, di un liberatore. E naturalmente, siccome è promessa di Dio, questa attesa non sarà delusa. Dio offrirà tutto se stesso, realizzerà la promessa a tempo debito. E allora gli esseri umani aspettano, con fiducia, con gioia. Quando Gesù inizia il suo ministero su questa terra, Giovanni Battista, quello che aveva detto, preparate la via del Signore, il precursore del Messia, Giovanni Battista era fuori gioco, era in carcere. Lui, che aveva proprio annunciato che la promessa si stava per compiere, che l'attesa era finita, che c'era finalmente la visita di Dio sulla terra, colui che aveva battezzato Gesù nel fiume Giordano, ora, in prigione, vuole sapere, ha dei dubbi, malattesa. Quella che io ho detto è compiuta, è vero, è veramente finita. O mi sono sbagliato, o mi sono dimostrato un profeta non vero, un falso profeta, uno che forse ha proiettato i suoi desideri di compimento della presenza di Dio nel mondo e ha sbagliato. Ho veramente incontrato il Messia, oppure no? Al tempo di Giovanni Battista e di Gesù, infatti, si parlava tanto dei segni del Messia, perché c'erano molte persone che arrivavano molto carismatiche e dicevano Io sono il Messia, l'attesa è finita. E poi non era vero, era la proiezione del desiderio di un tempo compiuto e nuovo. Gesù presenta ai discepoli di Giovanni Battista i fatti del Messia, che sono quelli che noi chiamiamo i miracoli. In realtà li possiamo comprendere come atti di superamento del dolore e dell'impedimento umano. E poi il fatto che si dica l'Evangelo è annunciato ai poveri, non è un'ingiustizia che taglia fuori i ricchi, ma vuol dire che l'annuncio dell'Evangelo raggiunge chi ne ha veramente bisogno. È lì per ridare speranza a chi è tagliato fuori e chi non vede umanamente un'inclusione della sua vita in una comunità umana. Quando Dio compie la sua promessa e visita questa terra, non si limita a tenere una mano sulla spalla a chi soffre, a chi è nel dolore, a chi è preda del male, ma rimuove il dolore e ogni impedimento. E la buona notizia, l'Evangelo annunciato ai poveri, vuol dire annuncio a chi veramente ne ha bisogno. Care sorelle e cari fratelli, mi è venuto a questo proposito in mente una piccola poesia di Bertolt Brecht, che non è neanche la più famosa, e che si chiama Vigilia di Natale. Bertolt Brecht dice noi siamo qui al freddo, senza riscaldamenti, siamo nella miseria, ma in questa vigilia noi celebriamo la venuta di Dio su questa terra e noi abbiamo veramente bisogno di Dio. Noi aspettiamo chi ci è veramente necessario. Noi aspettiamo perché tu ci sei veramente necessario. Ora, sorelle e fratelli, io lo so che noi soffriamo, lo so che le povertà esistono, noi abbiamo avuto in Cristo il primo assaggio e ogni sera, quando dai vostri cuori nasce la preghiera del Padre nostro, non vi dimenticate mai di sottolineare a Dio, venga il tuo regno, che la tua presenza di pace, di sconfitta del dolore, di annuncio di cose buone, belle e positive, per chi ne ha bisogno, giunga al più presto. Amen. Innalziamo fratelli il canto, alla giorni apriamo il cuore, il Natale e il Salvatore, celebriamo in questo dì. Dalle delle sue limone, il figlio lo intera scese, per la madre nostra offese, la sua vita è in dono frì, per la madre nostra offese, la sua vita è in dono frì. Diamo l'oreterna gloria, al divino redentore, il suo grande e il suo amore, ci riscatta dal derogio, come i magi offrirono lì, al Signore delle genti, a Gesù che ci ha redenti, oggi noi vogliamo il cuore. A Gesù che ci ha redenti, oggi noi vogliamo il cuore. Ci raccogliamo in preghiera. Nostro Dio, noi ti lodiamo per la tua visita a questa terra in Gesù, per tutti i segni che Egli ci ha lasciato della tua volontà di combattere il male, di sconfiggere la morte e di far arrivare conforto e speranza alle persone che non ne hanno. Ti chiediamo, fa che manteniamo viva quello che ci ha portato Gesù nella sua visita su questa terra. Fa che ci ricordiamo che tu non hai cominciato dall'alto dell'umanità, ma ti sei calato in basso. per questo ti chiediamo di dare speranza, di dare coraggio, di dare strumenti a tutti coloro che vogliono vivere secondo il tuo Evangelo. E in questi giorni fa che continuiamo a vivere di quell'attesa piena di speranza che ti chiede, che ti dice venga il tuo regno. Ti chiediamo di benedire i nostri giorni e le nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen. Padre nostro che in cielo dimori, nel tuo nome salteam la virtù, su noi e si è fatto, Signore, come in cielo il tuo volere qua giù. Oggi il pan quotidiano ci dona e le offese di venti ciancò come ognuno di noi le perdona al fratello che gli è delito. di di questo amore vol paterno dalle insidie del gran tentator tu sei il regno potente eterno tu fedele e glorioso Signore e questa domenica ci salutiamo con la benedizione che viene dal Signore la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodisca i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Erika Tomassone Grazie